Pace e bene a tutti 2 novembre tutti i fedeli defundi viviamo una particolarissima comunione dei santi le anime sante lo ripetiamo sante, le anime sante del purgatorio siamo tutti in comunione comune unione attraverso chi? attraverso Gesù Redentore il risorto vicino alla madre del risorto Maria di Nazareth tutta rivestita intresa di sole, di Dio lei che pregando il suo figlio intercede per noi e chiede che tutte le anime sante del purgatorio oggi anche attraverso le nostre preghiere le nostre offerte soprattutto la preghiera eucaristica Gesù che attualizza il sacrificio della croce per loro e per noi Maria presso il cuore di tutti i suoi figli anche quelli che lei può visitare e accogliere sul suo cuore immacurato per portarle tutte in paradiso oggi intercede per questa pienezza di gloria di trionfo di gioia nei cieli o tutto questo la Chiesa ce lo dice anche con un brano del libro di Job Job che vorrebbe fosse scritto tutto ciò che ha detto attraverso uno stilo stilo di ferro su tavolette di piombo oppure sulla roccia perché è convinto sicuro che dopo questa vita lui risorgerà e grazie al Redentore vivrà nella gloria ecco una fede certa nella risurrezione già negli uomini le donne in coloro che vivono prima della venuta di Gesù ma hanno nella speranza la certezza del Messia del Redentore noi abbiamo una fede ancora più forte più sicura più ardente quella per cui firmiamo attraverso l'Eucaristia nel sangue di Gesù firmiamo questa alleanza eterna cioè comunione eterna con il sangue di Gesù quel sangue in cui le nostre vite si sono immerse e le nostre vesti piuttosto sporche per i nostri peccati sono diventate candide lavate lavate nel sangue purissimo dell'agnello il figlio il figlio di Dio ecco la nostra sicura speranza speranza che noi viviamo insieme ai nostri cari defunti non è soltanto un bel ricordo andare al cimitero certo in questi giorni in questa ottava dopo la festa la solennità di tutti i santi all'inizio di novembre noi possiamo lucrare indulgenze plenari per loro tutti i giorni visitando il cimitero pregando anche solo mentalmente però congiungendoci anche attraverso una santa confessione e la comunione con la pienezza della vita di grazia distaccandoci da tutti i nostri peccati anche i più piccoli ecco una firma nel sangue di Gesù nella comunione con il sangue di Gesù ecco perché dobbiamo fare comunione con Gesù nella Santissima Eucaristia Gesù nel suo sangue nel suo corpo nella sua persona divina ci mette a contatto con tutti coloro che vivono la comunione dei santi i santi anche con le anime sante del purgatorio per cui i loro piccoli beni li possono utilizzare per noi ma le loro miserie le loro cadute i loro peccati li possiamo per il sangue di Gesù per la nostra preghiera la nostra offerta qualche sacrificio purificare noi c'è uno scambio di beni i loro beni con i nostri beni è la comunione dei santi è lo Spirito Santo che è l'amore ormai è fuso nei nostri cuori che ci mette tutti in contatto come un flusso continuo di luce alle volte noi pensando ai congeni più moderni vediamo passare un messaggio attraverso particolari sistemi di mail di luce ecco ma c'è una luce ancora prima prima quella voluta da Dio Dio è luce Gesù è luce e ha messo dentro di noi la luce lo Spirito Santo che mette in comunione tutti noi e un giorno ci metterà in comunione perpetua gioiosa in paradiso siamo sì un'unica cosa con Gesù con il Padre con lo Spirito Santo con Maria con le sante del paradiso perché è bello avere la compagnia di Santa Teresa Davide di San Francisco di San Massimiliano Maria Colbe di Santa Faustina di Santa Teresina di Santa Chiara di Santa Veronica e siamo in comunione perché Gesù attraverso il suo sangue il suo corpo eucaristico già anticipa in noi questa comunione perpetua che sarà nella eternità Gesù quella volta ciò lo dice l'Apostolo prediletto San Giovanni parlava alla folla e diceva parlando proprio del suo corpo del suo sangue dell'Eucaristia io li risusciterò nell'ultimo giorno se farete già corpo con me sulla terra sangue con me cuore con me ecco come Gesù ci vuol dire io ho compiuto tutto questo incarnandomi nella Vergine Maria io ho fatto una sola cosa con la sua umanità lei ha dato a me la sua umanità virginale io ho dato a lei la mia divinità perché creando così il corpo mistico potessi raggiungere ciascuno di voi e portarvi in paradiso compreso le anime sante del Purgatorio preghiamo per loro uniamoci a loro dicendo l'eterno riposo dona loro Signore splenda ad essi la luce perpetua riposino in pace ame godano per sempre la pace la gioia eterna gioia perfetta che fu sempre nel cuore immacolato di Maria anche quando soffriva c'era una gioia nascosta che in lei diventava speranza nella risurrezione e oggi vive pienamente nella gloria e là nella gloria tutti la madre attende madre nella gloria madre dice a suono di noi riempici attraverso il tuo cuore immacolato di quella pienezza di vita e di spirito santo che tutti ci fa vivere già sin da ora consacrati a te nel cielo nel cielo di Dio il tuo cuore bello purissimo immacolato scenda per questo desiderio di cielo la benedizione dell'altissimo la tua benedizione madre nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo a uno sguardo a Maria entrare nei cieli dei cieli di Dio pace e bene a tutti amico 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 Grazie.